Musica Vivi Limatola, un progetto che ha l'obiettivo di portare Limatola fuori dalle secche in cui è piombata in questi anni. Candidato sindaco della lista presentata ieri, Pietro Di Lorenzo, da sempre attento alle problematiche della cittadinanza. Mi aspetto che ci sia più spazio per i giovani. Innanzitutto una struttura organizzata, stabile, che sia volta a far emergere le potenzialità dei giovani. Qualche cosa che possa far riunire i giovani, un'associazione, tutti insieme, una cosa che è mancata fino ad adesso. Sicuramente organizzare delle iniziative, fare delle proposte, magari organizzare delle giornate, delle serate per riunirsi e quindi magari mettersi d'accordo e organizzare un po' il paese insieme. Perché comunque i giovani non ci sono adesso, quindi sarebbe proprio ora organizzare qualcosa. La prima cosa è riunire tutti i ragazzi, li metterei ad uno ad uno a dare delle motivazioni e degli input che siano stimolanti per il paese. Cercare di organizzare al meglio il nostro paese, cercare di dare più spazio soprattutto ai giovani e soprattutto dare loro l'opportunità di creare degli eventi, di fare delle iniziative insieme. Grazie per la visione!